Il debito pubblico più grosso che abbiamo è quello con le generazioni a venire. Abbonandovi a Valori troverete come dar credito a un mondo sostenibile. E in più, con ogni abbonamento potrete regalarne un secondo quasi a metà prezzo. Oppure regalare un cesto con prodotti provenienti da terreni sottrati alla camorra. Formichi o locuste dipende anche da noi. Valori.it